16.00 direi che possiamo partire. Un buon pomeriggio a tutti voi. Questo è uno dei webinar della SIC, ma nello specifico è il primo webinar organizzato dal gruppo di studio di cardiologia dello sport, di cui ho il piacere di avere il coordinamento. Sono qui oggi con due relatori eccezionali, uno il professor Pelliccia, che adesso vi presenterò, e l'altro Elisabetta Toso, che fa parte con me del nucleo della cardiologia dello sport. L'argomento di oggi è un argomento molto importante perché è la lettura dell'elettrocardiogramma negli atleti. Ora lo diranno loro nello specifico. È un aspetto molto importante per chi lavora in cardiologia dello sport, ma non solo, perché comunque nella pratica ormai quotidiana di ognuno di noi ci si imbatte con sportivi, quindi è importante saperlo leggere ed interpretare. Quindi direi di iniziare subito senza indugi. Ho il piacere di presentare il professor Pelliccia, che non ha in realtà bisogno di presentazioni. Il professor Pelliccia lavora da decenni nel mondo della cardiologia dello sport e ha pubblicato lavori che rappresentano delle pietre miliari per la cardiologia dello sport a livello mondiale. Non da ultimo è il chair delle ultime linee guida dell'ESC venti venti sulla cardiologia dello sport e l'esercizio nelle malattie cardiovascolari ed è anche uno degli autori dei vari documenti che si sono susseguiti sull'interpretazione dell'ECG nell'atleta e di cui ora sentiremo parlare. Prego professore. Grazie Viviana. Buongiorno a tutti. Io ho messo già le diapositive. Credo che si... mi conferma che si vedano? Sì prof, si vede. Si vede e la sentiamo. Molto bene. Allora, devo dire che è un grande piacere di partecipare a questo webinar per i motivi che ha detto esattamente la professoressa Maestrini. È il primo webinar del gruppo di studio della cardiologia dello sport nell'ambito della società italiana della cardiologia. E questo è un momento importante di crescita per la cardiologia italiana. È un momento importante di crescita anche per la cardiologia dello sport. Perché il contributo della SIC in questa area dal punto di vista sia conoscitivo che divulgativo ritengo che sia estremamente importante. Quindi sono particolarmente felice e al tempo stesso onorato di prendere parte a questo primo webinar. Allora, il primo webinar si parla dell'elettrocardiogramma. Si parla dell'elettrocardiogramma dell'atleta e devo dire qui una diapositiva di introduzione storica. Sul elettrocardiogramma, sulle caratteristiche dell'elettrocardiogramma negli atleti, si è scritto da che esiste l'elettrocardiogramma. E in modo particolare, in ambito della letteratura scientifica italiana, esistono i primi report di cardiologia di descrizione dell'elettrocardiogramma negli atleti a partire dagli anni 70, cioè circa 50 anni fa. Quindi mi direte perché ancora oggi si parla dell'elettrocardiogramma? Perché? Perché è cambiato l'approccio alla lettura dell'elettrocardiogramma. Mentre l'approccio iniziale era quello dettato soprattutto dalla curiosità scientifica di capire perché questo elettrocardiogramma è cambiato, perché c'erano gli alti voltaggi, perché gli alti, se e come gli alti voltaggi correlassero con le dimensioni cardiache. Oggi come oggi, passata questa, diciamo, fase di curiosità e di interpretazione fisiopatologica, la cosa interessante è invece trasferire queste informazioni dal punto di vista clinico, pratico, cosa che è quella che interessa di più il cardiologo nella sua attività. E allora nel corso di questi anni, come voi vedete, ci sono comparsi numerose, diciamo, revisioni e aggiornamenti dei criteri della lettura dell'elettrocardiogramma che sono sostanzialmente alla fine esitati in questo documento che è il documento, diciamo, una position paper dell'ESC e una position paper in cui hanno partecipato non soltanto autori europei ma anche autori americani e in cui sostanzialmente si approccia la interpretazione dell'elettrocardiogramma da un punto di vista estremamente pratico, che è quello che deve considerare il medico dello sport e il cardiologo nel momento in cui vede un elettrocardiogramma di un atleta. E cioè deve dire queste cose, queste modificazioni, alterazioni dell'elettrocardiogramma che io vedo sono normali da un punto di vista clinico, cioè sono semplicemente l'effetto fisiologico o parafisiologico dell'allenamento oppure rappresentano una reale condizione patologica ancorché si tratti di un atleta. Questo è l'approccio fondamentale e allora io vi parlerò oggi di quelle che nel corso degli anni sono considerate essere le modificazioni dell'elettrocardiogramma unicamente di squisito sapore fisiologico caratterizzate dalla una serie di modificazioni elettriche o diciamo morfologiche del cuore conseguenti all'allenamento fisico. Queste sono le diciamo alterazioni che sono incluse in questo box di colore verde che includono diverse appunto come voi vedete, potete leggere, includono diversi tipi di modificazioni. Innanzitutto l'aumento dei voltaggi, la presenza di un blocco incompleto di brancadestra, la ripolarizzazione precoce, la presenza di un ST elevato con le T negative o difasiche nelle derivazioni anteriore negli atleti di colore, la bradicardia sinusale, la bradiaritmia sinusale e poi il blocco adrioventricolare e il blocco adrioventricolare di primo grado e di secondo grado. Voi mi direte che cosa c'è di nuovo? Probabilmente di nuovo c'è semplicemente il fatto che finalmente si è raggiunto un accordo tra il medico dello sport che ha un background più di tipo fisiologico e il cardiologo clinico che ha un background clinico, si è raggiunto un accordo nell'interpretare queste modificazioni come delle modificazioni che dal punto di vista clinico sono benigne e quindi di per sé non richiedono ulteriori accertamenti. Per cui una volta che voi avete fatto una diagnosi corretta di una di queste alterazioni siete a posto e non dovete fare null'altro. Vi farò vedere semplicemente alcuni esempi da commentare insieme. La prima cosa è la bradicardia sinusale. Allora la bradicardia sinusale è una informazione che il fatto che gli atleti abbiano una bradicardia sinusale è un'informazione ben nota. Questo è un elettrocardiogramma tipico di un atleta ciclista maschio di 27 anni in cui si vede appunto che ci sono diverse caratteristiche tipiche di un elettrocardiogramma dell'atleta ma tra queste quella di una frequenza cardiaca che è inferiore a 60 battiti al minuto. Una frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto si può ritrovare anche nelle persone che non sono allenate ma nell'ambito delle persone che praticano attività sportiva si ritrova più frequentemente nell'ambito degli atleti, degli sport e cosiddetti di endurance. Sporti di endurance sono il ciclismo, il calottaggio, la canova, la corsa, la maratona, lo sci di fondo oltre anche cioè laddove c'è una rilevante componente di natura aerobica nella quota dell'allenamento. Quindi anche potenzialmente anche in alcuni sport cosiddetti misti, per esempio sport di squadra. Ma uno dei punti importanti è quanto questa bradicardia può essere diciamo considerata normale quando si arriva a una frequenza cardiaca come questa, 38 battiti al minuto. Allora 38 battiti al minuto, se voi non sapete che questo è un atleta, un ciclista ben allenato, un professionista, sicuramente vi dovreste preoccupare. Il fatto che vi lascia tranquilli è che in questa situazione c'è una conduzione a V perfettamente normale, ci sono altre caratteristiche dell'elettrocardiogramma che sono tipiche dell'elettrocardiogramma dell'atleta, per esempio un asse tendente al verso la 90 gradi, c'è un minimo ritardo della conduzione intraventricolare destra, ci sono un aumento dei voltaggi, qui si vede l'aumento dei voltaggi nella S e della R e la cosa importante è la risposta della bradicardia all'attività fisica. Quindi questo è un elettrocardiogramma normale? Sì. Perché è un elettrocardiogramma normale? Per i motivi che vi dicevo prima, incluse il fatto che non solo non ci sono sintomi legati ad una bradicardia patologica, quali fatica, dizznes, sincope, vertigini, eccetera, ma la frequenza cardiaca di questo ciclista sale normalmente durante l'esercizio fisico, quindi basterà far fare un minimo di esercizio fisico e la frequenza cardiaca aumenta. In questi soggetti che hanno una bradicardia marcata, come in questo caso 38-40 battiti al minuto, la frequenza cardiaca massimale raggiunta durante l'esercizio fisico è sostanzialmente simile di poco, il risotto di poco inferiore rispetto a quello di un soggetto di parietà, pari taglia corporea che non sia particolarmente allenato. La dinamicità e la rapidità con cui la frequenza cardiaca aumenta rappresenta uno dei criteri fondamentali per tenere fisiologica questa anomalia. Ovviamente tutto questo è vero se si tratta di un atleta ben allenato che praticano sport di quelli che sappiamo che inducono modificazioni dal punto di vista elettrico e morfologico del cuore, quale appunto il ciclista. Se si trattasse di un sollevatore peso, se si trattasse di un giocatore di golf, la situazione sarebbe ovviamente totalmente diversa. Quindi importante è chiedersi che tipo di sport fa il soggetto e come lo fa, cioè qual è l'intensità naturale e la frequenza dell'allenamento. Di pari passo con la praticardia sinusale spesso, ma non necessariamente, si ritrova un rallentamento della conduzione asioventricolare con un blocco asioventricolare di primo caso, come questo è il caso di una ragazza giocatrice di basket di 18 anni. Usualmente in questo caso l'intervallo PR è prolungato intorno oltre 200 millisecondi fino in mediamente a 300 millisecondi, la conduzione asioventricolare 1 a 1 rimane, onda P e QRS rimane inalterata. Ovviamente dal blocco asioventricolare di primo grado ci possono essere in associazione, questo è comune di trovarlo, nei monitoraggi oltre delle 24 ore ci possono essere soprattutto nei momenti di praticardia più marcata, quindi durante le ore notturne, ci possono essere episodi di blocco asioventricolare di secondo grado tipo 1, quello che noi chiamiamo Luciani-Wenckbach. Questo è un esempio riportato qui in cui si vede che l'intervallo PR tende a progressivamente a prolungarsi e da 140 millisecondi arriva fino a 200 millisecondi e poi abbiamo una P che non è condotta, una P bloccata, dopodiché il C lo riprende normalmente. Questo tipo di elettrocardiogramma è un blocco asioventricolare tipo Luciani-Wenckbach, si ritrova in una percentuale di casi non particolarmente elevato sull'ordine dei 4-5%, soprattutto negli atleti che fanno, come vi dicevo, sport di tipo dinamico di endurance. Qui abbiamo un altro esempio di una P bloccata, poi abbiamo l'intervallo PR, vedete qui, poi qui, poi qui, che progressivamente si allunga fino a bloccarsi di nuovo. A volte mi capita nella pratica clinica di vedere dei riferti degli atleti in cui si descrive un blocco asioventricolare di secondo grado di secondo tipo, non Luciani-Wenckbach, tipo 1. In realtà, poi, nella analisi accurata e critica dei tracciati e Cg, si vede che questo intervallo PR tende ad avere dei minimi incrementi, per cui si tratta sempre di un Luciani-Wenckbach e non di un secondo grado tipo 2. Secondo grado tipo 2 non è fisiologico, non è considerato essere fisiologico e è invece considerato essere l'espressione di un'anomalia, di una patologia del sistema di eccito-conduzione. Quindi fare molta attenzione quando si rifertano i tracciati e fare molta attenzione quando si osservano una risposta in cui si parla di Mobitz di secondo grado tipo 2. Attenzione, perché in questi casi spesso ci si può, insomma, l'errore è dietro l'angolo. Per quello che riguarda il blocco incompleto di branca-destra, voi vedete qui un tipico esempio. Il blocco incompleto di branca-destra è una entità abbastanza comune. Peraltro, dipende molto dal tipo di popolazione che esaminate, si può ritrovare fino a percentuali del 10-20% nella popolazione generale di atleti, di una popolazione mista di atleti. Le caratteristiche del blocco incompleto di branca-destra sono quelle di essere, di avere un QRS inferiore a 120 millisecondi, come sapete. Usualmente qui il QRS è sull'ordine dei 100-110 millisecondi, con una morfologia RS-R' con un R' un pochettino sallargato nelle derivazioni precordiali anteriori V1 e V2. E inoltre, questo è interessante, guardate che nelle derivazioni corrispondenti speculari, cioè le precordiali sinistre, la V5 e la V6, c'è una S un pochettino sallargata che vi testimonia la presenza di un ritardo della conduzione intramentricolare destro, un minimo ritardo di conduzione intramentricolare destro. Una attenzione va fatta per quello che riguarda la possibile, ancorché insomma è difficile che succeda in mani esperti, la possibile diciamo confusione dal punto di vista diagnostico del blocco incompleto di branca-destra con un pattern ICG di tipo di brugata, di cui voi vedete qui un esempio nel lato destro. In realtà dal punto di vista morfologico la situazione è totalmente diversa, perché qui il QRS è relativamente stretto, nel blocco completo del blanco-destra che potrebbe essere relativamente stretto e vi dicevo esiste nella derivazione precordiali sinistra esiste una S che vi testimonia la presenza di un ritardo. Invece nel pattern di brugata, a parte che voi avete un andamento discendente, uno slurring dell'St che scende giù in questo momento in questo modo tipico, questa conformazione tipo COVID, in queste situazioni avete un QRS relativamente più largo nelle derivazioni precordiali anteriori, mentre invece non avete uno slargamento della S nelle derivazioni precordiali sinistra. Una delle caratteristiche fondamentali del ICG della Treda è rappresentata ovviamente dall'aumento dei voltaggi. Aumento dei voltaggi che ci sono diversi criteri che servono a determinare i criteri elettro-radiografici di ipertrofia venticolare sinistra, devo dire che nel corso degli anni si è fatto un po' giustizia dei diversi criteri Cornell eccetera eccetera e si fa oggi come oggi si fa un uso soprattutto del criterio di Sokolov. Il criterio di Sokolov prevede che il voltaggio della S in V1 e della R in V5 o V6 sia superiore ai 35 mm o 3.5 mV. E qui voi vedete un esempio tipico, questo si tratta di un giovane maschio canottiere che dimostra un ammarcato incremento del voltaggio. Vedete non solo l'aumento di voltaggio nelle precordiali sinistre in V4 e V5 soprattutto, ma anche della S nelle derivazioni precordiali V2 e V3. A questo, a testimonianza che si tratti di un adattamento elettrico tipico dell'adleta, vedete che esiste nella derivazione V, nelle precordiali V1 e un po' meno in V2, un rallentamento, uno slargamento del QRS a indicare un ritardo di conduzione intraventricolare e l'intervallo PR appare un pochettino più prolungato, oltre i 200 millisecondi. Quindi questo è un esempio classico di un incremento dei voltaggi dell'atleta. Questo è un altro esempio, anche in questo caso abbiamo un atleta che è un atleta che in questo caso fa il ciclista, in cui abbiamo una serie di manifestazioni. Vedete come c'è un aumento di voltaggio particolarmente marcato, vedete la V4, ma vedete la V5? La V5 parte la R dalla linea isoelettrica qui e arriva fino a qui su. Quindi in questo caso abbiamo dei criteri di voltaggio che sono francamente eccedenti, il limite della soglia dei 3.5-5 mille volti. In associazione vi faccio notare come esiste una bradicardia sinusale e come esiste ancora, e cosa di cui andremo a parlare subito dopo, un'elevazione del tratto ST rispetto alla linea isoelettrica. Qui esiste un punto J, un piccolo bump, l'onda J, e il tratto ST che è sopraelevato e si continua con un'onda T a picco, a tenda, elevata e con una base relativamente stretta. Questo è uno degli esempi classici del incremento di voltaggio negli atleti. L'incremento di voltaggio negli atleti si ritrova soprattutto negli atleti che hanno un incremento della massa, come vi faccio vedere in questo caso. Qui si tratta di un canottiere con una cavità ventricolare sinistra francamente aumentata, da un volume sinistro non indicizzato di oltre 200 millilitri, una funzione ventricolare perfettamente normale. Questo tipo di atleti presentano usualmente bradicardia marcata e incremento dei voltaggi elevato. Incremento dei voltaggi a seconda delle diverse popolazioni si ritrova nel 20-30% degli atleti italiani caucasici, ma è ovvio che se voi vedete solo maratonetti la percentuale aumenterà, mentre invece a seconda se vedete soggetti che fanno sport di destrezza o sport di potenza, quindi o golf o sollevamento pesi, l'aumento dei voltaggi è assolutamente raro e scarso. Per quello che riguarda in modo particolare il ventricolo destro, questo è un elettrocardiogramma meno usuale. Giuseppe! Vi prego di chiudere i microfoni. Allora, per quello che riguarda i criteri di voltaggio del ventricolo destro, vedete questo elettrocardiogramma che è relativamente meno usuale, ma comunque possibile, in cui quello che prevale, una nota caratteristica che prevale è l'incremento della R nel precordiali V1, V2 e della S nelle corrispondenti precordiali speculari e precordiali sinistre. In questo caso i criteri di voltaggio per ipersofina ventricolare destra sono 1.05 millivolt. Ma quanto è frequente questo reperto? Qui voglio citare un lavoro che è stato fatto dal gruppo di Charmant qualche anno fa, oramai insomma parecchi anni fa, in cui sono stati messi insieme gli atleti e soggetti che hanno una patologia del ventricolo destro, tra cui una patologia, una cardiomepatia destra e soggetti con ipertensione polmonare. Allora vedete che ovviamente i soggetti con ipertensione polmonare sono quelli che ragionevolmente hanno una maggiore prevalenza di criteri elettrocardiografici di ipersofina ventricolare destra, oltre un terzo di questa popolazione. Ma rispetto ai controlli, 6%, gli atleti avevano un 11% di prevalenza di queste alterazioni, di questo tipo di particolare. La cosa interessante è che questo tipo di anomalia generalmente non va, non presenta nessun sintomo e non è correlato con nessun quadro clinico testimoniante una disfunzione ventricolare destra o un'ipertrofia vera ventricolare destra, rilevabile alle metodiche di mancina. Infine parliamo brevemente di quella che è la sovraelevazione del tratto ST e la early repolarization. Allora qui ce ne parlerà poi Elisabetta in modo più specifico. Vi voglio soltanto dire che noi come medici dello stato per decenni abbiamo considerato la ripolarizzazione precoce come una variante normale, una variante benigno, normale del diagramma degli atleti. Questa variante era caratterizzata dalla presenza, come vedete bene in questa figura, dal punto J e da un tratto ST che parte sopraelevato rispetto alla linea isoelettrica. In realtà poi la storia a partire dagli anni 2000 è cambiata grazie alle diciamo alle ricerche e alle valutazioni di Anselevich e poi di Michele Assagher, i quali hanno descritto un pattern caratterizzato da uno slurring dell'ST, una onda J prominente, un slurring dell'ST e la sovraelevazione dell'ST, del tratto ST che sono associate con una instabilità elettrica, la possibilità di una fibrillazione ventricolare, di una morte improvvisa, peraltro in cuori strutturalmente sano. Ma restando nel campo degli atleti, quello che vi faccio vedere sono un paio di esempi di quella che è la ripolarizzazione precoce nell'atleta. Questo è quello che noi vediamo nei soggetti che sono allenati. Anzitutto che cosa vediamo? Vediamo che c'è un appunto J, un J che è sovraelevata generalmente di uno o due millimetri rispetto all'imerso elettrica, che si continua con un tratto ST che ha un andamento concavo con una T positiva a Guzze che ritorna poi sul tratto dell'ST. Questa sovraelevazione del tratto ST, quella che noi chiamiamo ripolarizzazione precoce, è presente soprattutto nelle derivazioni precordiali da V3, V4 fino a V5, V6. Nelle derivazioni periferiche standard si può ritrovare quella che è uno slurring, cioè un rallentamento del tratto ST, per cui il tratto QRS sembra slargarsi e poi si continua con un ST livellamente sovraelevato rispetto all'imerso elettrica e alla T positiva. Allora questo tipo di anomalia si può ritrovare molto comunemente, molto frequentemente negli atleti e se ha queste caratteristiche non deve suscitare una particolare preoccupazione. Vedete questi esempi? Allora, questo è un altro esempio, si tratta di un soggetto, un sciatore di fondo visto prima delle Olimpiade. Allora che cosa abbiamo notato? Qui è particolarmente evidente la sovraelevazione del punto J e il tratto ST particolarmente elevato. È evidente nelle derivazioni precordiali anteriori da V4 a V6, mentre nelle derivazioni laterali vedete che c'è semplicemente uno slargamento del QRS. In questo soggetto, a parte la bradicardia, che cosa vedete? Vedete il relativo aumento dei voltaggi della S e della R, vedete il ritardo di conduzione testa. Una delle cose caratteristiche che abbiamo avuto modo di osservare è che questa morfologia della ripolarizzazione precoce è una morfologia estremamente dinamica, nel senso che durante sforzo scompare, questo ve lo dirà bene poi Elisabetta Toso, ma ha anche delle variazioni cicliche in relazione con il carico di allenamento. Qui vedete lo stesso soggetto in cui la ripolarizzazione precoce era ben evidente nel momento in cui lui era molto allenato, al momento del picco dell'allenamento, mentre invece dopo un periodo di disallenamento di un paio di mesi la frequenza cardiaca era relativamente maggiore e questa morfologia di ripolarizzazione precoce era totalmente scomparsa. Quindi le caratteristiche della ripolarizzazione precoce benigna, quella che si riscontra negli erredi è che questa particolarità, questa curiosità elettro-radiografica è presente in maniera diffusa nelle derivazioni anteriori e laterali e talora meno evidente nelle derivazioni inferiori. Che l'altezza del punto G rispetto all'isola elettrica è generalmente di 1 o 2 mm, la morfologia dell'RST ha un andamento ascendente positivo seguito da un'onda T positiva e si associa con un aumento dei voltaggi della R e della S e che ci sono variazioni dinamiche legate con l'allenamento e il disallenamento e infine è ovvio non ci sono storie familiari e non ci sono sintomi. Infine questa curiosità, negli atleti il gruppo di Charmant ha descritto per l'inizio da una decina d'anni, questo è un aspetto particolare che si chiama DOMEND nelle derivazioni precordiali anteriori da V1 a V3 all'ora in V4. Questo è un aspetto caratterizzato da una soprelevazione a tipo cumuliforme del tratto ST seguita da un'onda T difasica, un'onda T difasica più che negativa, un'onda T difasica. Questo aspetto è stato descritto negli atleti caugasici e rappresenta una delle caratteristiche, scusate, è stato descritto negli atleti carabiaci e africani e rappresenta una delle caratteristiche tipiche legate alla razza afrocarabiaca ed africana. Dal punto di vista strutturale, gli studi che sono stati fatti e le osservazioni che sono state fatte in questi in questi atleti, le osservazioni riguardano soprattutto le metodiche di imaging, ecocardiogrammi in modo particolare e più recentemente risonanza magnetica. Bene, tutte queste indagini non hanno permesso di documentare alcun tipo di cardiopatia o anomalia strutturale cardiaca, per cui si pensa che questo tipo di alterazione sia una in qualche modo variante etnica, ma vi voglio dire, variante etnica non esclusiva, perché occasionalmente, anche se in una percentuale molto bassa di casi, si può ritrovare anche negli atleti caugasici, molto più frequente nei nevi, ma talora si può ritrovare anche negli atleti ben allenati caugasici. E qui entro poi in un discorso flash per quello che riguarda la differenziazione di questo tipo di morfologia. vedete qui l'aspetto domed che vi ho fatto vedere con la T di fase che è francamente negativa in un'atleta, confrontata con un paziente con una patologia cardiomepatia ritmogena, qui secondo le indicazioni di chiara calore, vedete che una delle differenze fondamentali, una delle differenze fondamentali qui nell'onda T è la presenza di questa ripolarizzazione precoce, di questa elevazione del tratto ST, per cui questa elevazione del tratto ST in qualche modo vi permette anche di fare, gli aiuta a fare una diagnosi differenziale, questo è l'esempio tipico che si ha negli atleti, questo è l'esempio invece che sia più tipico che si ha nelle patologie, nella cardiomepatia ritmogena. Questo è un discorso cui non voglio entrare più di tanto, lasciamo da parte Finocchiaro che ha detto sostanzialmente la stessa cosa e arriviamo a fare un sommario per dire che cosa. Per dire che cosa è che di queste alterazioni che io vi ho in qualche modo rapidamente accennato, non è che si ritrova un'alterazione o una isolata, generalmente quando si tratta di una modificazione dell'elettro radiogramma conseguente all'allenamento, si hanno insieme più modificazioni, quale per esempio in questo caso, in questo caso voi avete una bradicardia marcata, una bradicardia sinusale marcata, avete un asse elettrico tendente verso destra, avete un minimo ritardo di conduzione intraventricolare destra, avete i voltaggi elevati. Questo bradicardia sinusale, asse verticale, aumento dei voltaggi, blocchi in completo di branca destra, ripolarizzazione precoce. L'insieme è la garanzia che questo elettro cardiogramma è un elettro cardiogramma di un atleta. Guardate quest'altro elettro cardiogramma che è ancora un elettro cardiogramma tipico, classico. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo un atleta di 24 anni praticante endurance. Che cosa vedete? Vedete anzitutto la ripolarizzazione precoce, punto J elevato, il cratta ST, punto J, l'onda J, il cratta ST elevato. Poi vedete l'aumento dei voltaggi, vedete nella derivazione V1 un aspetto cumuliforme che ricorda quello degli atleti afrocarabiaci. Bene, tutte queste alterazioni, tutte queste modificazioni insieme vi suggeriscono che questo è un elettro cardiogramma modificato a causa dell'allenamento. Un ultimo esempio. Qui abbiamo ancora l'asse verso destra, il ritardo di conduzione, l'aumento dei voltaggi, la ripolarizzazione. Anche in questo caso vedete che si tratta di un quadro tipico. E con questo io ho chiuso, in leggero ritardo chiedo scusa Elisabetta, ma diciamo eventualmente possiamo poi riprendere la conversazione se ci fossero domande o se ci fossero richieste di chiarimento. Grazie professore per questa bellissima relazione. Approfitto dell'intervallo per ricordare a tutti di spegnere i microfoni perché qualcuno lo ha acceso e purtroppo disturba l'audio. Inoltre vi ricordo che se avete delle domande potete usare la chat e scrivere tutte le curiosità che avete così al termine inviteremo i due relatori a rispondere. Colgo l'occasione per salutare anche Daniele Andreni e Ruggero Mango che ho visto collegato che fanno parte con noi del Nucleos insieme anche a Barbara Bauci e Giuseppe Limongelli, li vorrei ricordare perché insomma è il nuovo nucleo. A questo punto nulla, passerei alla prossima relazione, quella di Elisabetta Toso che è un cardiologo presso l'Università della Città della Salute e della Scienza di Torino. Svolge la sua attività prevalentemente presso l'Ambulatorio di Cardiologia dello Sport, quindi sicuramente avrà una raccolta meravigliosa di ECG della Città della Salute ed è il consulente cardiologo della Juventus Medical. Prego Elisabetta. Buon pomeriggio a tutti, vi sentite, mi vedete, vedete lo schermo? Sì. Ok, grazie Viviana della presentazione, è un vero onore e privilegio parlare dell'elettrocardiogramma patologico dell'atleta, sarà difficile parlare in maniera egregia dopo il professor Pelliccia, ci proverò. Allora, partirei da una diapositiva che vi ha già presentato il professore. Vedete, raggruppate quelle che sono le anomalie elettrocardiografiche nello sportivo, considerate di natura benigne, quindi contestualizzabili nel rimodellamento anatomico strutturale del cuore d'atleta nel riquadro verde, invece nel riquadro rosso vedete un elenco di alterazioni elettrocardiografiche che devono farvi sospettare qualcosa di più. Si dividono in due tipi, alterazioni elettrocardiografiche che sottendono a una possibile cardiopatia strutturale e invece alterazioni elettrocardiografiche che non sottendono a una cardiopatia strutturale ma a una malattia da cavani ionici. E proprio da queste vorrei partire e dal pattern di Brugada tipo 1. Perché? Perché non è una sindrome così rara, ha un'incidenza di tre casi ogni mille abitanti circa e spesso nella vostra pratica clinica avrete interpellati quali cardiologi per fare una diagnosi differenziale soprattutto davanti a un ECG di un giovane sportivo tra quello che può essere un blocco di branca destro completo e incompleto è un pattern di Brugada. Tipicamente l'ECG di Brugada mostra nelle precordiali destre V1 V2 un sopraslivellamento del tratto ST, avrete difficoltà nel separare l'andamento del tratto ST, la fine del QRS e l'onda T che formano una sorta di continuum e non è riconoscibile il punto J. Inoltre l'aspetto R' solitamente rotondeggiante sia in V1 che in V2 e la durata del QRS in V1 è maggiore della durata del QRS in V6. Quando invece osservate l'elettrocardiogramma di un blocco di branca destro, il tratto ST non è sopraslivellato, il punto J è a diselettrica ed è facilmente distinguibile la fine del QRS dall'onda T e la durata del complesso QRS in V1 V2 è sovrapponibile alla durata del complesso QRS in V6. Il pattern di Brugada tendenzialmente è un pattern che ha l'ECG di superficie fluttua ed è variabile, quindi se voi registrate diversi elettrocardiogrammi potete trovare delle alterazioni completamente diverse nelle precordiali destre. Quando però vi trovate di fronte a un ECG come questo, dubbio, un aspetto RSR primo, un lieve sopraslivellamento del tratto ST ma non un tipo covid, non un tipo 1 diagnostico, cosa potete fare? Potete innanzitutto registrare l'elettrocardiogramma posizionando la V1 e la V2 ad uno spazio intercostale superiore. Questo perché? Perché dovete essere certi di esplorare in maniera contoretta l'infundibolo destro che è la regione anatomica dove si concentrano a livello epicardico i canali del sodio mutati nella sindrome. Per esempio in questo caso posizionando la V1 e la V2 al quarto spazio intercostale registrate un elettrocardiogramma quasi normale ma alzando le derivazioni destre al terzo potete slatentizzare un pattern tipo 1 Brugada diagnostico. Quando l'elettrocardiogramma con le precordiali destre e altre non è sufficiente a fare diagnosi è possibile sottoporre il soggetto spruttivo a un oltre 12 derivazioni. Questo è un lavoro pubblicato anni fa dal nostro gruppo riguardanti i dati del registro Brugada Piemonte che ad oggi conta circa 1.500 soggetti. Il 30% di essi presentava già un pattern diagnostico l'ECG basale, il 70% invece un pattern tipo 1 indotto da farmaci. All'oltre a 12 derivazioni tra i soggetti che non avevano mai evidenziato il tipo 1 spontaneo l'ECG basale il 20% invece lo presentava di natura intermittente quindi con l'oltre è stato possibile fare una diagnosi di pattern Brugada tipo 1. Un altro strumento diagnostico non invasivo è rappresentato dal test ergometrico. Spesso nella fase di recupero della prova da sforzo soprattutto nei primi minuti quando si ha un'accentuazione del tono vagale è possibile la slatentizzazione del pattern mentre è più rara la slatentizzazione del pattern sotto sforzo. Quando le manovre non invasive quindi l'elettrocardiogramma con precordiali destre alte oltre a 12 derivazioni e prova da sforzo non sono sufficienti a fare la diagnosi allora è possibile sottoporre l'atleta a un test farmacologico con l'infusione di bloccanti canali del sodio noi amiamo utilizzare la emalina un milligrammo per chilo in 5 minuti in questo caso è stato risolutivo per fare la diagnosi di pattern di Brugada. Proseguirei con un'altra malattia da canali ionici la sindrome da ripolarizzazione precoce maligna. Il professor Bellino vi ha ben spiegato che il pattern da ripolarizzazione precoce che è stato descritto già diversi anni fa è sicuramente una variante elettrocardiografica tipica nel soggetto sportivo molto allenato e può raggiungere addirittura il 40% dei casi degli elettrocardiogrammi che vi troverete a riflettere. Tuttavia purtroppo a partire dalla fine degli anni 90 tale pattern elettrocardiografico è stato associato a casi di fibrillazione ventricolare idiopatica e morte cardiaca improvvisa in giovani con cuore strutturalmente anatomicamente normale. Sono state pubblicate le prime due casistiche nel 2008 dal professor Eiseguer e dal professor Rosso dove sono stati descritti effettivamente questi elettrocardiogrammi di giovani resuscitati da morte cardiaca improvvisa. L'attenzione quindi sull'elettrocardiogramma è andata via via aumentando dalle primissime descrizioni degli anni 70 molto semplicissime alla più articolata descrizione pubblicata nel 2015 in cui si descrive come pattern da ripolarizzazione precoce il punto J cioè il punto di giunzione terminale del complesso QRS a morfologia Notch-Oslar, il J picco deve essere superiore a 0,1 millivolt in due o più derivazioni contigue, il QRS deve essere superiore a 130 millisecondi di durata e la morfologia del tratto che segue l'onda J può avere un aspetto ascendente, orizzontale o discendente. Peraltro nel tempo la sindrome da ripolarizzazione precoce malinia è stata contestualizzata in una sindrome più ampia quella delle sindrome J di cui fa parte anche la sindrome di Brugada. Ne vengono identificate di tre tipi a seconda della localizzazione elettrocardiografica il tipo 1 se l'onda J Notch-Oslar è a localizzazione laterale, tipo 2 se ha localizzazione inferolaterale, di tipo 3 se ha localizzazione inferolaterale anteriore o nelle precordiali destre. Importantissimo poi osservare la morfologia dell'ST che può essere ascendente, orizzontale o discendente. Per quanto riguarda i casi di morte cardiaca improvvise, feguidiopatica associati a ripolarizzazione precoce, nei lavori di Aiseguer e Rosso il pattern incriminato era un pattern di tipo 2, cioè con un J sopra slivellato a sedi inferolaterale con morfologia Notched e principalmente associato a un ST di natura orizzontale o discendente. Quando abbiamo un elettrocardiogramma con pattern di ripolarizzazione precoce come facciamo allora a capire se è una forma benigna o potenzialmente maligna? Beh, quello che è importante valutare è l'ampiezza e la durata dell'onda J. Nei casi, cioè in coloro che hanno avuto aritmie ventricolari maggiori o morte cardiaca improvvisa risuscitata, l'onda J è molto ampia e molto larga. L'angolo sotteso dal J è significativamente più ampio rispetto ai controlli, ai soggetti sani. Questo è il caso di un giovane ricoverato un tempo fa da noi, un trentenne che ha avuto un FV idiopatica sul territorio, è stato rianimato, è stato chiaramente ricoverato, è stato sottoposto a... Non è stata risposta. I microfoni. Per favore spegnete i microfoni. che dici? Come sei? Dovete spegnere i microfoni. Grazie. Ma diciamo chiedo agli organizzatori se potete mettere il muto automatico a tutti, per favore. Grazie. Grazie. Ma niente. L'audio. Nell'ingrandimento potete osservare come l'onda J è in forma. Scusate Isabetta, il dottor Di Pasquale sembra essere particolarmente chiacchierone. Dottor Di Pasquale ci sente? Dottor Di Pasquale? Dottor Di Pasquale? Non ci sente, come so come fare. Dottor Di Pasquale? Ah ecco, ha mutato. Perfetto, grazie. Grazie. Perfetto, vai. Continuiamo. Come potete osservare nelle immagini ingrandita, onda J, aspetto notched, ampia, sopra slivellata, seguita da un ST orizzontale a derivazione inferonaterale. Nessuna anomalia anatomica riscontrata alle indagini seguite, quindi è stata etichettata purtroppo come una sindrome da ripolarizzazione precoce maligna, analisi genetica negativa, questo è un grosso limite di questa sindrome, non ci sono delle mutazioni specifiche ancora francamente riconosciute e il soggetto in questione è stato sottoposto in pianto di defibrillatore. Questo invece è un calciatore professionista con un elettrocardiogramma tipico per ripolarizzazione precoce, come vi spiegava prima il professor Pelliccia, il pattern è chiaramente un pattern dinamico, l'ampiezza del J è significativamente ridotta rispetto ai casi con la sindrome maligna, ma soprattutto l'elettrocardiogramma sotto sforzo si normalizza completamente. Potete osservare come il QRS si stringa e nelle derivazioni dove l'onda J era prominente, l'ST ascendente staccava alto dopo il J, l'elettrocardiogramma invece diventa perfettamente normale e dove c'era il J compare una piccola S. Altra malattia da canali ionici, la sindrome del cutilungo, questo è il caso di una pallavolista giunta all'attenzione della professoressa Giussetto che da noi si occupa di sindrome del cutilungo e sindrome del cutibreve, è stata fermata dai colleghi della medicina sportiva per il riscontro di un cuti corretto di 472 millisecondi. Vi ricordo che viene considerato patologico superiore o uguale a 470 millisecondi negli sportivi di sesso maschile e mentre nelle atlete superiore o uguale a 480 millisecondi. In realtà se andiamo a leggere le linee guida specifiche che partono a primo nome in presenza di sintomi e mutazioni che corredino con la sindrome del cutilungo. Questa sportiva è stata sottoposta a oltre cg 12 derivazioni e prova da sforzo che hanno confermato la presenza di un cuti corretto lungo spesso sopra i 500 millisecondi quindi marcatamente allungato e all'analisi genetica è risultata positiva per una mutazione della subunità alfa di IKR che depone per la sindrome del cutilungo di tipo 2. Chiaramente questo ha determinato la sospensione dalla pratica sportiva agonistica e un follow up stretto presso il nostro centro. Parliamo invece ora di alterazioni elettrocardiografiche che sottendono a cardiopatia strutturale quindi l'inversione delle onde T. Le onde T negative a sede anteriore si ritrovano all'incirca nel 2% di soggetti di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Sono un po' più frequenti nelle donne e un po' più frequenti nelle donne che praticano sport. Tuttavia sono un'eventualità rara se si estendono oltre la derivazione V2. Questo è l'elettrocardiogramma di una giovane tennista che ci è stata inviata dai colleghi della medicina dello sport perché osservandola annualmente hanno constatato un peggioramento delle onde T negative che si sono progressivamente stese da V2 a V6 e nelle derivazioni inferiori. Quello che mi preme sottolineare che le onde T negative sono solo parte del problema di questo elettrocardiogramma è caratterizzato ai me da una frammentazione pressoché costante del complesso QRS da questa impastatura che altro non è purtroppo che un'onda Epsilon. Le analisi strumentali hanno confermato il nostro sospetto diagnostico cioè quello di una cardiopatia ritmogena destra e purtroppo con iniziale coinvolgimento anche del ventricolo sinistro in corso l'analisi genetica. Questo invece è un giocatore di calcio che ha avuto una sincope durante una partita. Il suo elettrocardiogramma anche in questo caso presenta delle onde T negative potenziali frammentati del QRS e quello che è stato da poco descritto come un marcatore elettrocardiografico di aumentato rischio di morte improvvisa cioè l'emiblocco posteriore sinistro. Anche per questo ragazzo è stata fatta diagnosi di cardiopatia ritmogena mutato nella desmoglina 2. Parlando di onde T negative giustamente il professor Pelliccia vi ha ricordato che l'elettrocardiogramma va contestualizzato al soggetto che vi trovate di fronte. Quindi un atleta magari di razza afro-caraibica che presenta onde T negative associato a un sopraslivellamento del punto G e del tratto ST possono in qualche modo tranquillizzarvi. Quando il fenotipo non è conforme all'elettrocardiogramma, quando il tratto ST e il punto G sono all'isoelettrica e quando queste T negative si estendono anche in altre derivazioni per esempio inferolaterale dovete sospettare una cardiopatia ipertrofica. La cardiopatia ipertrofica presenta delle caratteristiche elettrocardiografiche peculiari come la presenza di onde Q patologiche di durata superiore ai 40 millisecondi e profondità superiore ai 3 mm associate a sottoslivellamento del tratto ST, T negativa se di inferiore laterale e spesso a P di morfologia bifida, segno di un ritardo di conduzione intratriale da sovraccarico pressorio nell'atrio sinistro e ritardi di conduzione intraventricolari associati a deviazione assiale sinistra. Questo è il caso di un uomo di 30 anni che decide di iniziare a nuotare con storia familiare di morte cardiaca improvvisa. Fa l'elettrocardiogramma la medicina dello sport e viene istantaneamente bloccato e inviato nel nostro centro. Presentava delle profonde onde Q a sedi inferiore, delle T negative diffuse con delle importanti alterazioni del tratto STT. Questo è il risultato essere il suo ecocardiogramma. Questa invece è una giocatrice di pallavolo di 25 anni che ha avuto durante l'allenamento una sincope. L'elettrocardiogramma purtroppo era alterato già da diverso tempo e le alterazioni sono risultate evolutive. Anche in questo caso onde Q importanti, T negative, STT da sovraccarico, ritardo di conduzione intraventricolare sinistro, meglio visibile in V3 e in V4. Questo è il suo ecocardiogramma. Di più recente riscontro interesse scientifico invece sono i bassi voltaggi nelle derivazioni periferiche. Questa è una recentissima pubblicazione dei colleghi di Padova. I bassi voltaggi all'elettrocardiogramma nella popolazione generale sono un evento abbastanza raro, ancora più raro nei soggetti di razza afro-caraibica, mentre non è così raro come fenomeno elettrico nei soggetti con cardiopatia ritmogena o cicatrice non ischemica del ventricolo sinistro. I colleghi di Padova hanno rivalutato l'elettrocardiogramma di oltre 2300 atleti, l'1% di essi presentava bassi voltaggi periferici del QRS. Di questi soggetti 5 presentavano anomalie ecocardiografiche, 2 una risonanza magnetica patologica, quindi attenzione. Anche a noi qualche anno fa è capitato un caso di un ex podista, una trentottenne. È stata affermata la medicina dello sport per questo elettrocardiogramma. Potete osservare bassi voltaggi nelle periferiche e potenziali frammentati nelle derivazioni inferiori. Questa è la sua risonanza e risultata mutata nella desmoplachina. E infine volgo verso la fine di questa presentazione parlandovi della sindrome di Wolf-Parkinson-White. Anche questo non è un evento così raro, quattro casi ogni mille bimbi nati vivi, è legata alla presenza di un fascio accessorio atrioventricolare, il fascio di Kent, localizzato a livello del solco AV, che presenta particolari caratteristiche elettrofisiologiche. Sono fibre sodio dipendenti in grado di precitare, citare più rapidamente porzioni distali del mio cardioventricolare rispetto a quanto è in grado di fare le normali vie di conduzione nodale. La conduzione del fascio di Kent ha una modalità a tutto nulla e ha una conduzione non decrementale. La capacità di conduzione del fascio di Kent può essere anterograda, retrograda, solo retrograda, più raramente solo anterograda. Questo fa sì che la precitazione ventricolare sia manifesta alle cigi di superficie, sia latente, cioè il fascio è in grado di condurre in maniera anterograda all'impulso, semplicemente non lo fa in maniera manifesta ma slatentizzata per esempio dalla manovra di Valsalva o dall'uso di farmaci che bloccano la conduzione sul nodo atrioventricolare, i beta bloccanti, oppure la conduzione occulta, cioè il fascio non ha capacità di conduzione anterograda ma solo retrograda, quindi l'ECG di base non è precitato. L'elettrocardiogramma è presenza di fascio accessorio caratterizzato da un PR corto, inferiore ai 100 millisecondi, un QRS di durata superiore agli 80 millisecondi e tendenzialmente tanto più largo quanto maggiore il grado di precitazione, la presenza di onda delta che è l'impassatura iniziale del complesso QRS che indica proprio la rapidità con cui l'impulso è condotto ai ventricoli tramite il fascio accessorio e la presenza solitamente di onde T negative che hanno, che sono discordanti rispetto alla polarità dell'onda delta e del complesso QRS. Le più comuni via accessorio tipo Kent sono laterali sinistre che tipicamente si presentano con un'onda delta positiva in V1, V2 negativa in D1 a VL, a seguire le posterosettali destre in cui l'onda delta è negativa in V1 e nelle derivazioni inferiori, un po' più rare le anterosettali in cui l'onda delta è negativa nelle precordiali destra ma positiva nelle derivazioni inferiori e le paressiane che sono anche quelle un po' più difficili da andare a eliminare con l'ablazione perché molto vicine alle normali vie di conduzione. È proprio di un caso di un ragazzino con un VPV paressiano voglio concludere questa relazione. Si tratta di un undicenne che gioca a basket che è sintomatico per cardiopalmo durante allenamento sin da piccolino. Lui ha mostrato tre tipi di tachicardie differenti. Questa prima tachicardia condotta QRS largo è una tachicardia antidromica in cui l'impulso elettrico scende dal fascio paressiano dall'atrio al ventricolo e risale sulle normali vie di conduzione. E poi sono state documentate queste altre due tachicardie ortodromiche in cui l'impulso scende dall'atrio al ventricolo tramite le normali vie di conduzione e risale dal fascio accessorio. Potete osservare come queste due tachicardie siano molto simili dal versante elettrocardiografico ma abbiano un ciclo di durata lievemente differente. Questo perché quella con ciclo 267 millisecondi risale tramite il fascio accessorio paressiano. L'altra, quella un po' più lenta, risale tramite un fascio accessorio un po' più lontano, una via laterale sinistra. Questo ragazzino è stato sottoposto ad ablazione dei due fasci, non ha più avuto recidive aritmiche, quindi è ritornato idoneo alla pratica sportiva lunistica. Concludo ricordandovi che in Toven molti anni fa ci ha fatto un regalo, che è quello dell'elettrocardiografo, col quale noi possiamo registrare l'elettrocardiogramma che a mio avviso è la carta d'identità del cuore ed è mandatorio saperlo leggere bene per poter fare dei sospetti diagnostici o delle diagnosi, soprattutto in giovani sportivi. È importante però registrarlo correttamente, quando registriamo correttamente un elettrocardiogramma, dobbiamo utilizzare i filtri giusti e quindi 005 Hertz per il filtro basso, 150 Hertz per il filtro alto e se registrate l'elettrocardiogramma in un neonato ricordatevi che il filtro superiore deve essere 250 Hertz al fine di non perdere nessuna anomalia del tratto ST, del complesso QRS che in qualche modo potrebbero indirizzarvi a una diagnosi. E concludo, grazie a tutti. Grazie Elisabetta per la tua bellissima presentazione e anche per il messaggio finale perché effettivamente abbiamo creato questo webinar proprio per sottolineare l'importanza dell'ECG perché non era dominata comunque dall'imaging, dalla tecnologia, spesso è sottovalutato e invece vi hanno fatto vedere bene entrambi i relatori di come sia importante e corretto conoscerlo. Ora purtroppo abbiamo pochissimi minuti per la discussione, non vedo domande in chat, non so se ci sono delle domande che volete porre e mentre capite se volete fare domande, se avete anche delle curiosità a approfittare dei nostri relatori, un paio di domande ve le pongo io se non mi dispiace. E la prima è una domanda molto pratica perché giustamente avete detto quando viene a fare l'elettrocardiogramma l'atleta bisogna chiedere, diceva il professor Pelliccia, lo sport e il volume e l'esercizio. Dunque, quant'è diciamo il volume minimo che dobbiamo che deve esserci per attendere quelle modificazioni di cui lei ha parlato? Ci può dare delle pillole pratiche e in quali sport invece non ce li aspettiamo? Ovviamente la domanda è per me. Certo. Allora, non c'è non c'è una soglia. In altre parole, non c'è un atto ore di allenamento a mensile, eccetera, eccetera. Non c'è. Perché? Perché questo? Perché oltre al carico allenante, e sicuramente il carico allenante è importante, è molto conto anche sulla capacità di adattamento e di reazione e di modificazione del sistema neurovegettivo del soggetto. Però, che cosa si può dire? Andando poi dal punto di vista clinico pratico, si può dire, prima di tutto esiste una grossa differenza di genere, anche qui, nel senso che le modificazioni di cui abbiamo parlato sono generalmente appannaggio degli uomini. Le donne hanno scarsissime modificazioni. Se voi confrontate cicliste donne con cicliste uomini, sarete sorpresi dal fatto che le donne presentano scarse modificazioni. Generalmente potete trovare la bradicardia, ma in termini di voltaggio, aumento di voltaggio, sono molto molto più rari nelle donne. Nelle donne sono più frequenti le anomalie della ripolarizzazione, come è stato detto, soprattutto le anomalie della ripolarizzazione in sede anteriore, tipo partner giovanile, che sono considerate una variante parafisiologica. Per quello che riguarda, quindi, oltre alle differenze di genere, differenze di età, nel senso che i soggetti giovani, adolescenti e giovani, presentano manifestazioni, alterazioni elettrocardiografiche molto più marcate rispetto ai soggetti adulti e anziani. Questo perché? Quando si tratta di modificazioni fisiologiche legate all'allenamento. Perché il sistema neurovegettivo dei giovani è molto più plastico, reattivo, di quello dei soggetti adulti. Poi, per quello che riguarda, diciamo, il tipo di sport, ho accennato. Sono gli sport quelli che determinano le modificazioni elettrocardiografiche, sono quelli caratterizzati da un carico di lavoro dinamico aerobico più elevato. Quindi sono tutti gli sport di durata, il ciclismo, il carottaggio, la canova, la corsa, lo sci di fondo, eccetera. Incluso anche gli sport di squadra, laddove, negli sport di squadra, c'è il portiere, c'è il centrocampista. Quindi è più facile che un centrocampista abbia modificazioni elettrocardiografiche tipiche, mentre invece è più rara nel portiere. Ok, grazie. In guardenza, sesso, età e sport. Benissimo, grazie. Ora ho visto che c'è Daniele Andrini che ha alzato la mano. Prima di lasciare la parola a lui, brevemente c'è una domanda sulla chat e ci chiedono se ci sono delle onde T negative alle CG basale che si normalizzano durante il test ergometrico in presenza di un imaging, test di imaging normali. Le dobbiamo considerare normali, le dobbiamo considerare patologiche? Cioè il fatto che varino durante l'esercizio? Quindi si normalizzano, sono negative di base, si normalizzano nell'esercizio e l'imaging è normale. Una cosa che a me piace fare sempre prima della prova da sforzo sono le manovre funzionali. Quindi quando ho un ECG patologico, mi viene mandato un ragazzo con un ECG sospetto patologico dalla medicina dello sport, faccio N-grip e iperventilazione per vedere se sono T negative che si modificano. Perché il fatto che si modifichino depongono di solito per qualcosa di non grave, non patologico. Onde T negative in presenza di una cardiopatia ritmogena piuttosto che una cardiopatia ipertrofica difficilmente con l'iperventilazione e con le manovre funzionali si modificano. Diverso il discorso invece se ho delle T negative sotto sforzo peggiorano, allora questo no perché il sovraccarico pressorio per esempio su un cuore spesso può determinare un ulteriore aggravamento di alterazioni già presenti all'ECG basale. Quindi la normalizzazione sotto sforzo con manovre funzionali depone di solito, a fronte poi di un imaging negativo, perde le alterazioni di natura benigna. Daniele? Grazie, grazie Viviane. Innanzitutto complimenti a entrambi, davvero relazioni super super interessanti. Siete partiti tutte e due con il confronto fra le varianti dell'ECG normali, da considerarsi normali e quelle patologiche, dove sono menzionate le T negative sotto i 16 anni. Allora volevo chiedere idealmente a entrambi, se abbiamo tempo, i 16 anni l'ho considerato un catoff assoluto? O questa è una cosa che io spesso mi chiedo? O comunque in ragazzi di 6, 17, 18 anni possiamo ancora tollerare queste anomalie? E nella vostra esperienza comunque se anche nel 13, 14 anni ci sono delle caratteristiche morfologiche o altro che comunque ci devono insospettire o se le consideriamo sempre fisiologiche? Io di solito non mi baso tanto sul criterio d'età quanto sullo sviluppo fisico del ragazzo, nel senso che a volte ti trovi di fronte dei 14, 15 anni. Che hanno uno sviluppo completo. Completo e a volte magari il 17, 18 anni che non lo è ancora. E tendo sempre a contestualizzarle, nel senso che solo la T negativa mi preoccupa relativamente, ma se inizio a vedere un'estrema di viazione assiale destra, del QRS impastato, voltaggi non perfetti, allora no, in quel caso lì divento un po' più sospettosa. La tennista 19enne che ci è arrivata un poco tempo fa, in realtà analizzando i suoi tracciati, il tracciato è stato evolutivo. Un tracciato che evolve e peggiora nel tempo, ahimè, è suggestivo per una cardiomiopatia sottostante che cresce col cuore del ragazzo. Anche nella mia esperienza il cambiamento del pattern è una delle cose più significative. Non so se Antonio ha qualcosa. No, siamo perfettamente d'accordo, non conta il criterio cronologico semplice, peraltro vi devo dire su questo argomento è stato scritto da tutti, è stato scritto recentemente da Flavio Tascienzi, da Michael Papadakis, da altri eccetera, insomma il tratto comune a tutti è che bisogna guardare lo sviluppo somatico del soggetto e che occasionalmente anche a 16 anni si possono trovare delle morfologie tipo batter giovanile, il quale va contestualizzato nell'ambito clinico. Poi quello che ha detto Elisabetta, cioè dell'evolutività e che hai confermato tu è assolutamente discriminante. Grazie. Perfetto, io purtroppo penso che la discussione potrebbe andare avanti a lungo, però il tempo è tiranno e vi ringrazio ancora a tutti, vi do appuntamento al prossimo webinar della cardiologia dello sport che sarà il 13 maggio, a breve riceverete più dettagli e ringrazio ancora i relatori per le loro splendide relazioni. Un buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.